Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Sono il vostro Dark Chaos 92 e oggi siamo con questa nuova sfida Che ci dice, che mi sono dimenticato ovviamente, però comunque nel titolo lo vedrete Allora, dobbiamo cercare in questa nuova sfida tra un ponte di metallo, tre poster, la non mi ricordo che cacchio era E che comunque si trova qui, quindi mi raccomando ragazzi, vi faccio vedere adesso dove si va Perché è davvero facilissima questa sfida Ovviamente ragazzi lasciate un bel po' di like, arriviamo a 50 like, vediamo se siete belli pronti pronti Intanto io scendo e vi faccio vedere che appunto, quello lì sotto, arancione, è il ponte di metallo ragazzi, ok? Qui c'è una piccola montagnetta con quattro alberelli Come potete vedere dal punto dove sto scendendo io Vedete? Qui, in questi quattro alberelli ragazzi, troverete appunto la missione per completarlo ovviamente È qui, guardate Faccio vedere, vedete che infatti ci stanno molta gente Eccola qua Vedete? Boom E avete completato la missione Hello my friend Comunque ragazzi avete visto che questa è la missione da completare Quindi mi raccomando di lasciare like alla live e alla live al video e supportarmi con un piccolo, una piccola condivisione Mi raccomando ragazzuoli, ci vediamo noi alla prossima Bella dal vostro dark house Dal vostro dark house 92 E alla prossima, ciao ragazzi